Attivo fino all'estate 2022, demolito oggi. In mezzo due anni di progressivo degrado per l'ex El Ciringuito che si è trasformato dal luogo della movida peserese on the beach in fatiscente scheletro d'edificio abbandonato sulla spiaggia. Così questa mattina le ruspe del centro operativo del comune hanno raso al suolo e rimosso buona parte delle macerie del locale collocato sul tratto di spiaggia libera di Ponente alle spalle di Pesorostudi e a fianco allo stabilimento balneare dalla Cira. Scelta radicale quella dell'amministrazione Biancani dopo che il manufatto in questione era divenuto sempre meno edificante dal punto di vista dell'immagine fra legno corroso ed elementi arrugginiti né raccomandabile dal punto di vista della sicurezza essendo divenuto luogo di bivacchi e rifiuti abbandonati. Si è scelto di demolirlo perché il degrado era solo destinato a peggiorare visto che per due stati sono andate deserte le proposte di possibili attività imprenditoriali in grado di riattivarlo. Un immobilismo di soggetti privati dettato anche dall'incertezza della direttiva Bolkenstein che non consente ad oggi di poter intraprendere un simile percorso lavorativo con un orizzonte temporale e regolamentare certo.